Salve a tutti stramodi e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Sequestion e oggi siamo tornati su Eldaria perché c'è l'evento pasquale. Solitamente non faccio eventi come sapete però ho fatto un'eccezione tipo per l'evento di San Valentino e la farò anche per questo evento perché l'illustrazione non è generale con tutti i flirt per l'evento ma specifica per ogni flirt. Mi sono un pochino spoilerata le cose e devo dire che ne avrei proprio... quindi iniziamo subito l'evento, per sbaglio ho cliccato già un dialogo perché non sapevo. Ok, allora, la Pasqua stava una. La Pasqua stava una Pasqua, ok, e io che avevo pure tradotto il sito. La Pasqua stava arrivando presto e io ho capito che scommettevo insomma che stavo per cadere in un'altra trappola. Non è venuto da solo. Ah sì, perché la scritta che ho saltato è essenzialmente Matthew che chiedeva di incontrarci. Che cosa stai facendo? Ricordi la nostra piccola scommessa dell'anno scorso? Intendi la mia schiacciante vittoria e i tuoi costumi da coniglietta così carini? Hai dimostrato di essere un avversario molto forte. Avremo la nostra vendetta. Ti ho battuto una volta, posso farlo di nuovo. E inoltre so già cosa ti chiederò di fare. Dovrai indossare di nuovo i tuoi costumi ma dovrai anche seguire una coreografia della mia composizione. La tua immaginazione non ha limiti. Questa volta ognuno per sé preferisco difendermi da solo. Anche io. Stesse regole, il vincitore è colui che riporta più cioccolatini dalle esplorazioni. Ho già un'idea di cosa farò se vinco. Il suo sguardo si soffermò su di me. Qualcosa mi dice che è meglio che vinca di nuovo questa volta. Ok, essenzialmente noi dovremo andare in esplorazione per recuperare i cioccolatini, sempre con il famiglio, del colore del nostro flirt. Quindi voi ci rivediamo quando avrò tutti i cioccolatini di Nevra. Ok, eccoci ritrovati. Finalmente che ho raccolto tutte le monete con Nevra. Stranamente è stato il primo con la quale ho ottenuto tutto perché l'evento era partito che stavo avendo tantissimi punti con Matthew e con Leifton, molto a caso. Ma per fortuna ho ottenuto subito con Nevra quindi andiamo subito a registrare. Ok, allora vabbè questa è la schermata, quella la solita, aiuto. Le mie braccia piene di cioccolato e sono andata a cercare i ragazzi, insomma, avevo raccolto tanto cioccolato. Ma ho trovato solo Nevra che mi ha spiegato che aveva già battuto gli altri con le mani giù. Tutti l'avevano lasciato con il loro obbligo, diciamo. Dopo aver riguardato, insomma, quello che avevano raccolto ha dovuto guardare in faccia i fatti. Insomma, ha perso la guardiana e quindi dovrà vestirsi da coniglietta. Anche io avevo perso miseramente. Ho pensato che non meritassi una sfida come gli altri. Non porto rancore, ma non dimentico niente. Senza interrompere il suo sorriso mi porse una borsa di puriri. Piaccia o no, indosso un costume da coniglietta sexy che mi calza come un guanto. Delizioso, se sei soddisfatto potremmo... Non così in fretta, mio coniglietto. Mentre guardavo con stupore, Nevra tirò fuori un altro accessorio, le orecchie di lupo. What the fuck? È ora di correre. In un lampo ho capito cosa stava succedendo e ho iniziato a correre e tagliarmi. Ah, lui invece si veste da lupo. Ok, ok, ci sto. Con il cuore che batteva forte gli ho dato tutta me stessa, ma alla curva del sentiero il predatore ha avuto la meglio sulla preda. In un balzo, Nevra era sopra di me e siamo rotolati a terra. Sopra di me mi ha divorato per un momento con gli occhi. Ho sentito la mia citazione crescere mentre si toglieva, mi toglieva? Si toglieva, lui il top, ok. La vittoria più bella che potessi sognare. Si passa la lingua sulle labbra e ora brevidi di desiderio sotto il suo corpo teso. Ero quasi intimidita da lui. Ma non vedevo l'ora di vedere fin dove ci avrebbe portato questa caccia inaspettata. Ok, abbiamo finito. Come potete vedere, cioè, a coso, a lens sono a niente. Matthew e Leifton, appunto, mi manca soltanto un punto. Come potete intravedere, anche le loro illustrazioni sono molto così soft porn, però proprio bene, ok. La tenuta, questa cosa da coniglietta che diceva, è praticamente la tenuta che noi possiamo trovare in esplorazione. Ora, la vedete così, o scena e o brobriosa, perché si è riempita con i pezzi che io ho trovato in esplorazione di colori improponibili. Io vorrei intanto che sia monocolore e poi, tipo, sul nero, sul bianco, sul rosa, sull'azzurro, insomma, tutta sta, sto popò di colori, insomma, anche no. Fammi sapere che cosa ne avete pensato anche di questo breve video, però, appunto, essendo una scena un po' più particolare, mi son detta no, vabbè, lo porto, dai, anche se è piccolino l'evento di Pasqua. E, niente, fatemi sapere che cosa ne pensate, vi invito a recuperarvi tutti gli altri episodi di Eldaria, di Dolce Flirt, di Mullet Lovers. E, niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.